ma se sono positiva ma non ti preoccupare è una malattia come tutti gli altri ti ripeto non c'è niente di serio guarda te sei più a posto di me ma è solo coronavirus non ti preoccupare io solo devo chiamare medico ma perché medico ah comunque se qua sotto il video vedi il tasto rosso iscriviti allora schiaccialo subito se no anche il mio gatto oscar diventerà rosso è una bambina di nove anni cosa positiva positivissima si la chiamavo io e dove paziente covid ti ha ridotto così io sono bambina di nove anni lei deve spiegarmi cosa devo fare perché se no io sono incinta ma lei non ha nemmeno la febbre nemmeno la tosse infermiera sono io allora tu sei insintomatica? ehm sì allora non muoverti perché? perché per prima devo vedere frigorifero cosa? frigorifero? solo verdure io voglio mangiare io voglio mangiare cold dog ho patatine fritte questi portano ad avere una vita super sana sono matti perché questa barretta di cioccolato non ha lo zucchero? perché questa barretta si mangia dopo lo sport e tu perché ti sei alzata? perché in quarantena si può fare la ginnastica sì ma non quando sono io qui allora ragazzi mettete cinque mila like se non vi piace fare sport come me no mettete nove mila like se vi piace fare lo sport dettelo cinque no nove cinque nove non non monica portami acqua volevi dire coca cola no acqua acqua mi fa venire voglio di pipì ma cosa dici? i bambini devono bere un litro e mezzo al giorno e quando ci sono le influenze pure due anche tu devi bere due se vuoi essere sana ma non vedi? io sono strassanissima ah come vuoi oh grazie comunque se anche tu vuoi la mia tazza personalizzata personalizzata? allora vai sul mio sito amelie.it a comprarla rive da voi monica eh io ho fame arrivo lo sapevo che prima o poi mi avresti chiamata prova la mia ricetta secreta panettone con nutella? ma io sono malata ascolta panettone con nutella così buono e così bello faccio solo io monica il dolce ci indebolisce il nostro sistema immunitario lo capisci? che? io sono infermiera monica e poi i dolci sono e poi i dolci sono belli belli mi hai quasi convinto ma io voglio mangiare insalata non so come i bambini fanno mangiare questa tifezza volevo dire insalata cosa c'è di buono nella verdura? non è neanche dolce ha tante vitamine c e ci tiene in salute che? ripeti? ha tante vitamine c e ci tiene in salute e anche tanti minerali non so come la fate mangiare ah è il forchetto vuoi una scioglina? io mangio solo hamburger, hot dog e patatine fritte ma tu non dovresti tenere la mascherina? che? guarda come sono grande monica tettonica coronavirus è piccolo così ha paura di me figurati se io prendo coronavirus mi porti le frutte? quale frutta? sai quale frutta è numero uno quando ci sono le influenze? facile le banane una mela al giorno toglie il medico di torno scolta sono io monica tettonica infermiera io so cosa si mangia si mangiano le banane ma ti porto le mele ah e anche il melograno schifezze ma questo come si fa? che è? che va farlo? il melograno non c'è ah comunque dopo devo bere vitamina c Che cos'è? Forse hai preso coronavirus Stai bene? Monica? La mia quarantena sarà lunga Tu sei stato in quarantena Se sì, quanti giorni è durata la tua quarantena più lunga? Scrivi qua sotto nei commenti E adesso ci occupiamo di te Dove è mio? Telefono! Telefono! Qua E tu? E tu? Portami Acqua, tanta acqua, verdura, frutta E quello che ho messo in casa, vitamina C Va bene Pronto? 38? Non ti preoccupare, ti curo io Comunque ragazzi, il video finisce qui Se volete vedere il video di ieri, cliccate qui E se volete vedere altri miei video divertenti Cliccate qui E ciao! Ho un'idea Come farla subito a rialzare dal letto Popipi Popipi Papi, papi